Innumerevoli tentativi di scopiazzatura e l'impronta epocale che avrebbe fatto cambiare direzione alla serialità. Guardando indietro questi dieci anni che ci separano dall'uscita di True Detective ci fanno tremare le gambe per diversi motivi. Se infatti l'età anagrafica conta e come se conta, è palese quanto l'universo seriale sia profondamente cambiato, e con esso quanto sia cambiato il sottoinsieme legato ai thriller e ai noir. Potremmo quasi dire che esiste un pre e un post True Detective, fotografato in quel livido e folgorante incipit giocato sui controsensi. A partire dal titolo, La Lunga Buia Luminosità, e poi un pilot scritto da Nick Pizzolatto e diretto da Kerry, Joshi e Fukunaga per HBO. E lì, in quei sessanta minuti umidi e drammatici, c'era già tutto quello di cui avevamo bisogno, in una partenza strettamente legata alla location la Louisiana del 1995 e ai personaggi neri e irrequieti. Da una parte Martin, Marty Hart, e dall'altra invece Rustin, Rust Cole. Personaggi fallibili e sporchi, dolenti e mutevoli, investigatori agli opposti che, destrutturando il centro del body movie, divennero l'archetipo umano celato nel pessimismo vicino alla poetica di Arthur Schopenhauer e di Friedrich Nietzsche. Nel farlo però, per diventare poi un'opera pop accessibile, iconica e fragorosa, doveva avvalersi anche di una presenza scenica all'altezza del contesto e a cui gli spettatori potessero credere nonostante tutto. Così, se True Detective è stato l'apogeo della Golden Age delle serie TV, il merito non può non andare anche e forse soprattutto alle facce di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, senza scordare poi ovviamente Michelle Monaghan, fondamentale per imprimere alla serie una svolta ancora più letteraria e decisamente simile a un grande romanzo americano. Dal resto, la concezione iniziale per True Detective arrivava dalla letteratura. Dopo aver scritto un libro meraviglioso come Galveston, divenuto poi un dimenticabile film, Nick Pizzolatto, scottato dall'esperienza di The Killing, assemblò la storia pensandola proprio come un romanzo. Tuttavia, quelli erano anni di forti cambiamenti e di forti influenze. Il cinema infatti si stava allungando, la televisione, complice l'ambizione sperimentale dei broadcaster, stava poi vagliando le possibilità di un'impostazione narrativa che potesse entrare in concorrenza con il linguaggio cinematografico. Proprio un anno prima era poi uscito House of Cards su Netflix e Breaking Badder al massimo della forma, e l'umore del pubblico stava così scoprendo un altro lato della televisione. Così la scintilla e lo zenith di quell'età dell'oro, pur figlia di Mad Men e dei Soprano, fece cambiare idea a Pizzolatto, tanto che strutturò una sceneggiatura finale di 500 pagine commissionata da HBO. E l'avevamo detto all'inizio della nostra celebrazione, i dieci anni di True Detective, con il senno di poi, incutono anche una certa ansia. Rivedendo adesso la serie antologica, ci rendiamo infatti conto di quanto fosse effettivamente cinematografica, cogliendo poi in sé il paradigma perfetto della messa in scena seriale oggi sfilacciata in una sfilza di contenuti più o meno omologati salvo rare eccezioni, che purtroppo non riescono ad avere più la giusta forza o la giusta longevità qualitativa. E inoltre è ancora forte la potenza di quel pilot che apriva le porte alla selva oscura in cui saremmo finiti insieme a Rust e a Marty, tra i sogni e gli incubi di un caso di omicidio lungo vent'anni stirato da Pizzolatto in uno scambio che alternava il 2012 al 1995. E in mezzo, senza aver paura di risultare esagerata, la parafrasi moderna di quella che potrebbe essere considerata la divina commedia della serialità televisiva. Eh già, perché solo la prima puntata di True Detective vale la maggior parte delle serie contemporanee. Provate a rivederla, provate a ricominciarla. Sentirete la puzza di umidità dei campi della Louisiana e l'odore della palude. Vi bruceranno gli occhi per il fumo della sigaretta di Rust aspirata con una concentrazione tale che resterete imbambolati, quasi intimoriti. Sobalzerete poi durante l'intro accompagnato dalla dolorante Far From Any Road di The Handsome Family, ritrovandovi così al centro di una storia macabra e marcatamente influenzata dall'horror, dal weird e dallo spirituale. Una scrittura che ricorre alla simbologia religiosa facendo la crasi tra la società statunitense, la cultura, l'ambiente rurale e la stessa religione che muove tanto il killer quanto i personaggi contrapposti di Martin e Rust, che a guardar bene si scambiano il ruolo di Dante e di Virgilio per una discesa nella psiche umana. Una psiche viscosa, spaventosa e inquieta. Così, rifacendosi al rain giallo di Robert Chambers e finendo per sfiorare la misantropia illuminista di Schopenhauer, Pizzolatto e Fukunaga con la giusta scrittura mettono in piedi una nuova divina commedia capace di riflettere il percorso stesso di Dante dall'inferno al paradiso. Il tutto poi dietro un pretesto dell'indagine legato a un brutale omicidio che in qualche modo riassume la violenza maschile contro la donna. Una violenza questa quasi sintomatica e caricata da un'indole appunto religiosa, avvelenando la bellezza stessa e generando l'orrore massimo. Ma se di viaggio si tratta Pizzolatto proprio come Dante Alighieri, sfocando il noir con l'esoterismo, mette in scena l'archetipo biblico del bene contro il male e parafrasando appunto Dante e Virgilio usciti a riveder le stelle. E come loro Cole e Hart finiscono così a rimirare il cielo, dissipando ad un attimo dalla fine il loro e il nostro pessimismo. Una volta c'era solo il buio. Secondo me la luce sta vincendo. E voi cosa ne pensate? Avete amato la prima stagione di True Detective? Fatecelo sapere nei commenti! Grazie. Grazie mille! Grazie a tutti